buongiorno a tutti e ben trovate la rubrica domanda risponde oggi parleremo di aggiornamento delle gps 2024 è partito il confronto per le nuove regole domanda numero 1 il rinnovo delle future gps consentirà il cambio di provincia e in tal caso per quanti anni si deve permanere nella nuova provincia allora il prossimo anno presumibilmente a maggio 2024 si potranno aggiornare le gps anche richiedendo per chi è già inserito in una provincia x il trasferimento in un'altra provincia y per il momento la permanenza dovrebbe essere lunga tre anni per cui il docente che cambia provincia dovrà rimanere per tre anni il 24 25 il 25 26 26 27 della nuova provincia ma la richiesta unanime dei sindacati è quella di allineare l'aggiornamento delle gae con quello delle gps facendole durare per un solo biegno dunque solamente per il 24 25 per il 25 26 questo punto è ancora incerto ed è in fase di confronto e di discussione per cui non sappiamo se le gradatori gps delle aggiornate dureranno per tre anni o per due andiamo avanti con la seconda domanda tutti coloro che stanno svolgendo il tfa per la specializzazione del sostegno potranno utilizzare il titolo di sostegno che acquisiranno a giugno luglio 2024 per inserirsi in prima fascia gps per la classe di concorso di sostegno se se come auspicabile ci sarà l'aggiornamento delle gps allora sarà consentito ai futuri specializzanti l'inserimento in prima fascia sostegno delle gps ma con riserva poi in un secondo momento non appena sarà conseguito il titolo di sostegno verrà aperta la sezione per lo scioglimento della riserva terza domanda se un aspirante docente si trova in seconda fascia per una classe di concorso x della secondaria ma nel frattempo ha conseguito due abilitazioni all'insegnamento per le classi concorso y z sempre della scuola secondaria può far valere un certo punteggio per le due abilitazioni per la classe di concorso x di seconda fascia ebbene sì le due abilitazioni y e z oltre essere titoli di accesso per la prima fascia nelle classi concorso y z della scuola secondaria andranno a valere tre punti per ogni abilitazione per la classe di concorso x della seconda fascia ecco speriamo che queste domande siano utili al nostro pubblico ai nostri telespettatori continueremo a trattare l'argomento perché è un argomento caldo un argomento che riguarda anche circa un milione di docenti precari che andranno a fare la domanda o di aggiornamento o anche di nuovo inserimento nel prossimo 2024 arrivederci e alla prossima